Vi auguro una buona giornata e buon weekend. Il messaggio di oggi è prova qualcosa di nuovo. Puoi capire se sei in grado di fare una cosa soltanto provandoci. Uno dei motivi per cui ti senti annoiato è che continui a fare sempre le stesse cose. Per ritrovare entusiasmo nella vita devi provare cose nuove. Questa carta ti chiede di pensare a qualcosa che hai sempre voluto fare e di impararlo. Chiedi a un familiare o amici di portarti nelle loro avventure. Quando provi qualcosa di nuovo all'inizio potresti sentirti strano come se non facesse per te. Fai solo del tuo meglio per divertirti e non preoccuparti di riuscire alla perfezione soprattutto appena cominciato. Più ti rilassi e ti diverti meglio andrà tutto. Iscriviti a un corso per imparare qualcosa di nuovo come una lingua teatro o fotografia o magari comincia un nuovo sport. Spingiti oltre quello che pensi di poter fare. Potresti scoprire che questa nuova attività ti piace molto e probabilmente farai nuove amicizie. Inoltre acquisterai competenze che ti saranno utili in altre aree della tua vita. Questo è il messaggio per augurarvi una buona giornata.